Buon pomeriggio. In genere prefigura quella che è la situazione nazionale. Non ci sono solo queste cose ma c'è anche incombente già dalla fine della mattinata una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte. Perché? Perché in realtà è pronto, dovrebbe essere pronto ormai il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna quello che scade di fatto tra tre giorni. Il lunedì di Pasqua, ovvero quel provvedimento che ci ha tenuti, ci sta tenendo tutti il più possibile a casa. Il provvedimento viene prorogato con un nuovo decreto fino, come sappiamo, al 3 maggio ma ci sono delle nuove esenzioni. Aspettiamo ovviamente la conferenza stampa di Conte che non parlerà solo di questo, del resto è di stanotte la conclusione dell'Eurogruppo che ha fatto anche discutere mess, non mess, non Eurobond. Ma stiamo intanto al decreto. Questo decreto a quanto pare dovrebbe contenere delle nuove esenzioni dal lockdown totale. Per le librerie, per i negozi di cartoleria e dintorni, e qui si pensa probabilmente soprattutto ai giovani, e infatti anche per i negozi di articoli, soprattutto di abbigliamento per ragazzini e per bambini. Si pensa ovviamente per neonati e si pensa evidentemente a chi sta in casa più degli altri, per cui non è stata data nessuna esenzione e non tornerà verosimilmente a scuola fino alla fine dell'anno scolastico. Più ci possono essere altre esenzioni, ma le anticipazioni dell'ultima ora riguardano queste possibili aperture. Non c'è in realtà invece nulla per quanto riguarda altre filiere di produzione. Le fabbriche che sono rimaste aperte resteranno aperte, quelle che sono rimaste chiuse non sono state riaperte, non lo saranno a quanto pare con il decreto che sta per essere presentato. Non sappiamo se sarà durante il pomeriggio o durante la serata dal Premier. Siamo abituati in questi giorni a aggiornamenti, ritardi, lo vediamo praticamente su tutto, lo vediamo anche su questo. Peraltro qualcuno potrà commentare amaramente che non è che abbiamo molto a fare, sono occasioni, sono circostanze, è un periodo in cui si può anche aspettare. Ci aspettiamo tra una decina di minuti che parli il, l'abbiamo ormai imparato a conoscere bene, l'assessore regionale welfare della regionale Lombardia, Giulio Gallera, con i dati di oggi. Come può andare la giornata? Abbiamo avuto nei giorni scorsi illusioni, speranze di discesa, disillusione. In realtà oggi è intervenuto anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e ha detto che in realtà i dati da cinque giorni sono buoni a questo riguardo. E quindi si può sperare? Certo, si può sperare. Vi voglio leggere per la precisione quello che ha detto Brusaferro. Intanto vi cito tutte le frasi più importanti. La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia. E poi anche nelle regioni del sud i numeri, sia pure contenuti, sono in calo. Si può quindi pensare e sperare a questo punto che le regioni meridionali non vengano investite in modo superiore all'attuale dal contagio. Mentre invece sulla Lombardia ha detto qualcos'altro. La regione conferma il trend positivo dei dati epidemici ma emerge il dato che conosciamo soprattutto per le denunce giornalistiche sulle morti nelle RSA per anziani. Sono, ha detto Brusaferro, 1822 i decessi nell'RSA della Lombardia. Questo è un numero evidentemente molto alto e che ufficialmente non era mai stato comunicato. L'età media dei decessi per coronavirus, ha detto ancora il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, è di circa 80 anni. Sono in maggioranza uomini e con più patologie. Si conferma quindi quella sorta di identikit che è stato fatto sin dai primi giorni del contagio. I numeri nelle RSA sono molto cresciuti. In alcune zone la mortalità è cresciuta durante settimane di picco dell'infezione, mentre rappresenta comunque una mortalità legata ai picchi influenzali tra gennaio e febbraio. E anche questa ha avuto una sua importanza in termini di mortalità. Fa capire quindi Brusaferro che non è solo il coronavirus la causa di così tanti morti all'interno delle strutture delle residenze sanitarie per anziani. I numeri nelle RSA sono molto cresciuti. Questo però che cosa vuol dire? Perché questa è la domanda che ci si pone. I numeri certo sono cresciuti, ma perché non c'era monitoraggio di questi numeri? Poi si è parlato in questo incontro, e lo ha fatto lo stesso Brusaferro, delle misure in vista della fase 2. Dovranno mantenere una scala nazionale, quindi nessuna apertura a scacchiera o regione per regione. Perché le zone del Paese che oggi sono bianche, perché non hanno casi, se non siamo attenti proprio al mantenimento delle restrizioni, da bianche possono diventare rapidamente rosso intenso, soprattutto nelle piccole comunità. Questo è un altro elemento che è stato messo in chiaro dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo per dirvi molto brevemente il trend come viene visto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha avuto un ruolo decisivo nel consigliare al governo, quindi alla politica, di non accelerare i tempi delle riaperture. Se dopo il 13 si staranno ancora tre settimane piene a casa, è perché appunto anche questo è il consiglio degli scienziati. Perché in realtà i numeri si fanno meno preoccupanti, ma non è che scendano tanto. A questo riguardo, anche questo pomeriggio, siamo collegati con Lorenzo Pregliasco di Utrend, che peraltro abbiamo visto ieri sera, ma ho visto anche di prima mattina Omnibus, quindi ormai fa parte, diciamo, non dico dell'arreddamento che sarebbe offensivo, ma fa parte della foto di gruppo dei nostri programmi. Buonasera Lorenzo, abbiamo già dei segnali, ieri ci hai dato alcuni numeri che riguardavano un'aggregazione, un aggregato di regioni, ovviamente in attesa della Lombardia. Sì, Lombardia che a breve arriverà, che a breve comunicherà i suoi dati, ma come Utrend abbiamo raccolto intanto i dati, i numeri parziali ovviamente, che però si riferiscono a dieci regioni, quindi a metà del paese, anche oggi copriamo da nord a sud, dal Friuli-Venezia-Giulia alla Campania, passando per l'Umbria. Mancano ovviamente delle regioni ancora importanti, ma quelle che abbiamo registrato mostrano sostanzialmente una stabilità rispetto a ieri. Questo è importante dirlo, è il quadro parziale, perché la Lombardia può spingere la bilancia del conteggio nazionale in una direzione o nell'altra. Per dare un dato più puntuale, considerate queste dieci regioni, al momento oggi si registrerebbero circa mille e cento nuovi casi, ed erano fondamentalmente lo stesso numero ieri in queste stesse regioni, e si registrerebbero una novantina di decessi contro i circa 80 in queste stesse regioni di ieri. La Lombardia però, direttore, potrebbe forse dare un segnale più positivo, perché come sappiamo è più avanti, è più lontana dal picco dell'epidemia. Sì, le voci che girano, confermamelo, così diamo un'anticipazione senza fare numeri, però le voci che circolano parlano ad esempio del numero forse di vittime più basso dall'inizio della fase acuta, e questo sarebbe un segnale importante. Sì, appunto sulla Lombardia sembra che ci si possa avviare, lo sentiremo a breve dall'assessore alla Sanità della Regione, che ci si possa avviare a commentare un dato incoraggiante sui decessi, per quanto ovviamente, come diciamo sempre, ogni decesso è in sé un dramma, ma con una tendenza positiva, cioè con una riduzione notevole rispetto ai dati di ieri. Chiaro che se la Lombardia ha un segno positivo, questo sposta un po' il conteggio nazionale verso un terreno relativamente confortante. Però, direttore, dobbiamo ricordare che è comunque un rallentamento non ripido, così come è stata l'accelerazione nel mese di marzo, è un rallentamento che fa pensare a una partita ancora lunga. Diciamo che diamo sempre meno acqua in cui pescare al contagio, al coronavirus, stando tutti a casa, e quindi evidentemente i casi sono inerziali a questo punto. Se si tornasse fuori, non lo dico per fare il solito discorso, perché non sono un precettore o un genitore di nessuno, se non di coloro che ho messo al mondo, però diciamolo chiaramente, stando a casa impediamo al contagio di avanzare. Se uscissimo probabilmente avremmo vanificato, insomma in realtà non c'è ancora una curva tale, una discesa tale, per cui possiamo dire sta finendo comunque la Buriana, no? Sì, poi gli specialistici diranno quando potremmo aspettarci che cambi, cioè quando la discesa sarà effettivamente accelerata, sarà rapida. Le prime stime parlavano, come sappiamo, più o meno di questo periodo, e invece vediamo che comunque siamo ancora nel pieno della fase di stabilità relativa o di leggero rallentamento che, ripeto, è positiva, ma che non ci permette di considerare questa partita chiusa. Chiaro che se oggi vedessimo dei dati comunque migliori di ieri, sarebbe di nuovo un piccolo segnale positivo. Peraltro è sempre utile guardare oltre al numero assoluto anche l'incremento percentuale dei casi. Se fosse vicino al 2%, comunque sotto al 3%, sarebbe un'indicazione positiva. Allora, c'è un'altra notizia che vi devo dare, che si sta predisponendo da parte del governo, che lo ha annunciato Conte intanto all'incontro con i capi delegazioni dei partiti della maggioranza di governo, e poi anche ad altre fonti politiche e istituzionali. ci sarà formata una task force per studiare il ritorno alle attività, la fase 2 e magari anche la fase 3. A guidarla sarà un famoso e grande manager di esperienza internazionale, Vittorio Colao, che è stato tante cose, è stato direttore amministratore delegato di RCS, e poi soprattutto di Vodafone a livello internazionale, e che tra l'altro, la memoria spero non mi inganni, è Bresciano, e quindi proprio di una zona che è stata duramente colpita dalla epidemia di coronavirus. Colao sarà la guida di questa task force, che dovrà studiare tutti gli aspetti connessi a ciò che è necessario, ma che va studiato molto bene prima di fare, cioè l'apertura, le riaperture, come. Pensate a tutti gli aspetti, anche quelli minimali. Come entreremo di qui in poi in un ristorante, come andremo alle pompe di benzina in autostrada, ai caselli, sui mezzi pubblici, in quali settori riaprire le fabbriche, e con quale logica di filiera. C'è un lavoro enorme, e viene a quanto pare istituita a questo scopo la task force che verrebbe e verrà, perché il nome è già circola, guidata da Vittorio Colao. Noi, che vediamo adesso in fotografia, appunto, questo manager italiano, che fino a pochi mesi fa era alla guida di un colosso come Vodafone, alla guida internazionale, non dell'emanazione italiana, e detta questa cosa, e vedendo che, come sempre, c'è qualche minuto di attesa, ne approfittiamo, andiamo in pubblicità, così dopo saremo già a ridosso delle cifre della Lombardia. Allora, eccoci ancora, stavamo consultando i dati di una giornata che ancora è interlocutoria, ma che dà anche ambito alla possibilità di vedere il bicchiere un po' più che mezzo pieno in questo caso. Guardate questa grafica che ci fa vedere l'andamento dei casi in Italia, e come vedete si disegna quella stessa curva che abbiamo visto per molto altro, per i casi regione per regione, e anche per il numero delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive o delle vittime. Nelle ultime giornate, come vedete, c'è stato un andamento meno massiccio della caduta, diciamo, tendenziale, e però i dati che stanno per arrivare possono farci, in parte, sorridere un po' di più, anche se è vero che, ad esempio, ieri, a livello nazionale c'è stato un numero di vittime maggiore che nel giorno precedente, ma in questi giorni la cosa importante è che l'insieme degli elementi, dei dati, delle tendenze sia positivo, e così sarà verosimilmente anche oggi. Preliasco? Sì, peraltro, insomma, si diceva giornata plausibilmente interlocutoria in attesa dei dati ufficiali sia della Lombardia sia sul livello nazionale, il che conferma un po' quello che dicevamo, cioè una curva che ha visto un suo rallentamento e credo che dovremmo poi prestare sempre più attenzione a dati come quello dei ricoveri e quello delle terapie intensive oltre alle metriche a cui siamo già abituati a prestare attenzione che sono come sappiamo quella dei decessi e quella dei casi totali. Quindi credo che a minuti quando insomma avremo comunicazione ufficiale dei dati occorra prestare attenzione a quello e alla distribuzione geografica, territoriale dei dati perché all'interno della Lombardia ne parlavamo anche ieri ci sono ritmi diversi tra le province e all'interno del paese lo stesso tra regione e regione quindi potremmo prestare attenzione anche a questo elemento territoriale. Sì, è giusto è assolutamente giusto così. Secondo quello che sta dicendo siamo collegati e stiamo vedendo la conferenza stampa del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebrezius in realtà la scorsa settimana abbiamo assistito cito le sue parole testuali a un benvenuto rallentamento dell'epidemia in Italia Spagna Germania e Francia la scorsa settimana in realtà la settimana che si sta concludendo e si assiste però una accelerazione allarmante in altri paesi ha citato sia gli Stati Uniti sia i paesi dell'Africa e lì ovviamente le preoccupazioni sono anche per il contesto socio-sanitario ben diverso nel continente africano in parti per lo meno del continente africano però ecco la citazione dell'Italia che è dovuta non per ragioni nazionalistiche ma l'Italia continua a essere purtroppo il paese con il maggior numero di vittime al mondo del coronavirus la cena all'Italia e al suo rallentamento dato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità in qualche modo sancisce il fatto che già ci raccontano da giorni gli esperti gli scienziati nazionali quelli del Comitato Tecnico Scientifico quelli dell'Istituto Superiore di Sanità e quelli prestate alle istituzioni internazionali come lo stesso la stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità è un momento che ci induce alla speranza ma come dicevo i numeri sono ancora tali per cui non possiamo dire liberi tutti vediamo ancora questo dato che ci fa vedere che è vero abbiamo superato quelli che sono stati i picchi massimi vedete quel 6.557 casi del 23 di marzo ma vedete da dove si partiva all'inizio di marzo ancora il 5 marzo si era sotto i mille casi e quindi abbiamo archiviato e possiamo dire sei settimane terrificanti ma adesso bisogna avere la certezza che si torni a dimensioni di controllo della proliferazione adesso R con 0 tutte quelle cose che dicono gli esperti qui ce le risparmiamo non facciamo finta di sapere cose che non sappiamo dal punto di vista dottrinale teorico a riguardo tra scienza e statistica però è vero che arrivano questi dati questi numeri quelli che stiamo per sentire anche della Lombardia quelli che stiamo per sentire a livello nazionale e ci fanno pensare che passi avanti se ne fanno non è un caso che nel momento in cui quando spunterà fuori anche Conte ci parlerà del decreto del nuovo decreto di Palazzo Chigi ci dirà che alcune cose riaprono alcune istanze appunto quelle che citavo per carità non cambierà la vita di tutti gli italiani sol perché riaprono le librerie o i negozi di abbigliamento per bambino però sono anch'essi segnali oltre che elementi di sostanza per chi per chi ama leggere ma soprattutto per chi deve vestire i propri figli non dimentichiamolo mai abbiamo parlato tanto giustamente della popolazione anziana abbiamo mandato a casa per la prima volta chiusa in casa per mesi la popolazione infantile e giovanile di questo paese senza dare neanche quegli sbocchi che hanno gli adulti per andare a lavorare se nei lavori essenziali per andare a fare la spesa per andare a fare gli acquisti essenziali in farmacia o quelli più controversi insomma in tabaccheria cioè le sigarette ai giovani ai ragazzini soprattutto no si è ricordati in corso d'opera che gli si può far fare se minori il giro dell'isolato con uno dei genitori ma questo è stato il massimo evidentemente nel provvedimento ora si pensa anche a quest'altro aspetto arrivano altri dati che anch'essi non vi posso non vi posso mostrare la Lombardia è un po' in ritardo e si stanno intrecciando i dati per l'appunto Lombardi e quelli nazionali l'impressione caro pregliasco è che non si sia verificato parliamo di questo aspetto non si sia verificato quello slettamento verso sud che era il grande timore non soltanto degli esperti ma anche dei governatori del sud degli amministratori del sud degli stessi scienziati anche per quella ormai mitica perché se ne è parlato come se si trattasse di una transumanza biblica di quella fuga in presenza di un imminente decreto da Milano e dal resto del nord verso il mezzogiorno si può dire che gli effetti di quella fuga che ci sarebbe comunque stata a mio avviso perché se una persona dimostra di essere domiciliata in un paese del mezzogiorno non c'è forza dell'ordine è che la può bloccare se dice sto andando a casa comunque quella fuga verso il sud non ha evidentemente provocato i danni che si immaginava che si temevano si può dire si può dire appunto i timori del 7 marzo per capirci quando è stato emanato il primo decreto erano che appunto si potesse replicare con un ritardo ma con un'intensità simile a quella della Lombardia del Veneto dell'Emilia l'epidemia anche al centro sud così non è stato possiamo dirlo perché è passato un mese abbondante e quindi visti i tempi che bene o male sono noti in letteratura del contagio dello sviluppo di sintomi si può dire che quantomeno quell'episodio non ha acceso un'epidemia di pari intensità al sud si può anche dire però che sicuramente il centro sud questo lo dicono gli esperti di epidemiologia il centro sud è più indietro rispetto alla Lombardia ma in generale al nord Italia che ha iniziato come ripetiamo spesso prima l'epidemia e quindi in un certo senso in una fase più matura per così dire già sulla fase più discendente al sud non abbiamo testimonianze non abbiamo dati di intensità particolari del contagio un timore molto forte era anche legato alla città di Roma che è la più grande città non solo del centro sud ma del paese e che bene o male ha retto vedendo anche i dati della regione Lazio insomma emerge che Roma non ha avuto una funzione di moltiplicazione del virus come si poteva temere e lo stesso è accaduto bene o male nel resto delle città del sud quindi effettivamente guardando anche l'elemento positivo se vogliamo dello sviluppo del coronavirus in Italia il centro sud ha retto su livelli molto più bassi rispetto al nord e non ha avuto questo è importante dirlo situazioni di pressione sul sistema sanitario paragonabili a quelli della Lombardia ecco intanto arriva da New York da Albany dalla capitale dello stato di New York il dato quotidiano che viene dato dal governatore di quello stato dello stato di New York ovvero Andrew Cuomo ebbene è un dato anche oggi molto pesante i morti nelle ultime 24 ore sono stati 777 quindi per fra l'altro per il quarto giorno consecutivo tocca dare un dato che inizia per sette è una costante nel numero di vittime adesso complessivamente nello stato di New York le vittime sono 7.844 sono a questo punto praticamente il quasi il triplo dei morti dell'11 settembre per dare un riferimento che evidentemente la città di New York la parte di Manhattan e l'intero stato di New York non possono dimenticare questo è una notizia che arriva evidentemente da lontano mentre aspettiamo quelle da più vicino però c'è un'altra nella conferenza stampa in corso presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui adesso sta parlando la capofila del gruppo dei tecnici degli specialisti degli studiosi del Comitato Tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità alcuni paesi stanno già pianificando la transizione dalle restrizioni ma eliminarle troppo rapidamente potrebbe portare a una ricaduta mortale queste sono le parole pronunciate la discesa può essere pericolosa quanto la salita se non gestita correttamente questo è quanto si è detto sia da parte di Gabriel Jesus il direttore generale sia da parte della dottoressa Van Kerkhove che sta parlando in questo momento che vedete nello schermo e sono notizie che vi possiamo dare anche perché come già sapete stiamo aspettando sta tardando la presentazione dei dati della Lombardia da parte dell'assessore Gallera dati che come si diceva le anticipazioni presentano come positivi anzi così come spesso la Lombardia è stato l'elemento purtroppo che ha rialzato che ha moltiplicato il bilancio nazionale delle vittime e si può dire che se alla fine quest'oggi non sarà come quello di ieri sarà grazie ai dati minori per entità in tutti gli indicatori che arriveranno da Milano e che però ripeto non spetta a me citare poi vanno anche confermati ufficialmente diciamo da chi di dovere in questo caso dall'assessore alla regione Giulio Gallera un altro elemento che vorrei continuare a trattare con Lorenzo Pregliasco abbiamo detto di questo centro sud che evidentemente sia per la capacità di prevenzione che c'è stata sia però perché evidentemente non c'è stata una discesa spontanea del virus del contagio dell'epidemia verso mezzogiorno ha provocato una divisione in due dell'Italia in cui la nostra attenzione è stata all'inizio e fino adesso sulla Lombardia ovviamente i numeri la giustificano ampiamente prima era stata sulla Lombardia e sul Veneto poi sulla Lombardia e l'Emilia-Romagna si è un po' tralasciato il Piemonte che invece tra le regioni è quella che forse in questo momento continua a avere una tendenza che non mostra ancora qualcosa di tranquillizzante è forse l'unica delle regioni forse anche un po' le marche che non ha non dà garanzie però vedo che inizia la conferenza stampa ne parliamo comunque ancora subito dopo la Lombardia di questa vicenda del Piemonte sentiamo come ospite il vicepresidente Fabrizio Sala l'assessore Gallera è impegnato in una riunione che è ancora in corso e quindi iniziamo subito con il vicepresidente Fabrizio Sala parlando di un tema caldo un tema che lui segue con particolare attenzione ovvero quella della mobilità della gente in Lombardia la mobilità della mobilità in Lombardia non dico che facciamo meno è la regione più importante d'Italia per numero di abitanti e sicuramente le notizioni sono importanti ma sappiamo che la mobilità a norma di decreto e anche di decreto regionale è fortemente ridotta possiamo quindi però concludere il discorso sul Piemonte che peraltro è la regione nella quale vive Pregliasco e quindi i dati ce li ha di prima mano oltre a tutto no? Sì e da cui ovviamente vi parlo in questo momento ma il Piemonte è interessante per almeno due aspetti uno perché effettivamente non era tra le regioni al centro dell'attenzione nella prima fase come ricordavi d'altra parte i due focolai erano nella bassa Lombardia nell'Odigiano e in provincia di Padova però lo è diventata è diventata in realtà una delle regioni con i dati forse più rilevanti come tendenze nelle ultime settimane anche per un aspetto che va sottolineato cioè il fatto che per esempio ha circa il doppio delle vittime e il doppio dei decessi rispetto al Veneto eppure il numero di tamponi il numero di test effettuati è enormemente inferiore in Piemonte rispetto al Veneto vedevo i dati di ieri insomma siamo sostanzialmente a meno di un terzo dei tamponi effettuati in Piemonte rispetto a quelli del Veneto c'è poi un'altra cosa che si può citare ovvero che in Piemonte c'è la seconda città del nord che è Torino la quale ha fatto registrare nel corso delle settimane il quarto incremento la quarta accelerazione a livello nazionale dei casi dopo Bergamo Brescia e Milano e quindi in un certo senso è come se avessimo questa questa situazione soprattutto nella provincia di Torino in parte la provincia di Alessandria che va sul viaggio su livelli non dico lombardi ma quasi lombardi poi citavi l'Emilia Romagna effettivamente in Emilia anche lì c'è stata una situazione non semplice da prima sul Piacentino ma anche ereditata dal sud della Lombardia cioè c'era solo un po' di mezzo rispetto alla zona dell'Odigiano e però poi ci sono stati altri focolai e peraltro quello diciamo romagnolo confina con quella che è la zona forse meno spiegabile però più virulenta del pesarese che ha che ha avuto una situazione veramente molto molto pesante non sempre abbastanza illuminata sì infatti le Marche pur essendo una piccola regione dal punto di vista della popolazione sono invece una delle regioni più colpite in questa epidemia e peraltro insomma ci ripensavo anche guardando i dati delle Marche ricordiamoci che in una prima fase era stata addirittura teatro di una sorta di scontro istituzionale perché il presidente della regione Ceriscioli voleva chiudere le scuole nelle Marche il governo nazionale si opponeva alla chiusura delle scuole in quella regione a posteriori si può dire che forse alcuni elementi ecco che portavano a richiedere la chiusura delle scuole la possiamo dire proprio piatta e diretta visto quello che è successo purtroppo è così e torniamo a vedere se in regione no possiamo dire di no perché sto vedendo un filmato che fa riferimento a una serie di visite di attività esterne quindi non è ancora il momento dei dati nella regione Lombardia dalla regione Lombardia aspettiamo molto questi dati ve lo ripeto ancora una volta perché se la Lombardia stesse molto sotto i numeri già non gravi di ieri comunque pesanti 300 morti per citare soltanto il dato sulle vittime e questo ci darebbe ovviamente un visuale su un dato nazionale meno grave di quello di ieri e comunque sarebbe importante anche per la Lombardia in sé se anche quell'indicatore cominciasse a frenare decisamente per questo è importante vedere torniamo comunque così non corriamo il rischio per non vedere altre cose di non seguire neanche l'aspetto più importante andiamo al vicepresidente sala ma più in generale a tutta la giunta di regione Lombardia la famosa app che dà la possibilità ai nostri scienziati ai nostri virologi a tutti coloro che sono in prima linea per combattere il covid questa app che appunto monitora e dà informazioni importanti a chi appunto studia il fenomeno sì io raccomando sempre di scaricarla abbiamo 700 mila persone che l'hanno scaricata allerta l'OM è veramente importante guardate qui si tratta di dare una mano alla scienza perché questo è il dato statistico più a larga scala e più importante che possiamo avere da dare ai nostri scienziati per studiare la mappa del contagio e la mappa del rischio del contagio siamo a 700 mila download quindi 700 mila persone l'hanno scaricata e abbiamo già raccolto un milione e centomila questionari un milione e centomila questionari perché ricordiamo che si può compilare una volta al giorno e preghiamo tutti di farlo anche chi non ha sintomi anche chi risponde negativamente a tutte le domande perché è un campione statistico molto molto importante abbiamo bisogno della vostra collaborazione per dare questi dati ai nostri ricercatori e ai nostri scienziati questa non è una televendita per usare un'altra frase che usate in passato perché questo aspetto può essere davvero importante per lo studio di quello che sta succedendo se possiamo aggiungerci a noi chi ci segue dalla Lombardia si scarichi quella app perché serve davvero molto a capire cosa è successo perché come cosa sta succedendo e come evitare che risucceda torniamo dal vicepresidente della regione anche più volte durante il giorno che possono essere utili alle diverse categorie alle diverse persone perché perché sono informazioni legati appunto all'emergenza coronavirus do un'informazione in più molti ce l'hanno chiesto stiamo inserendo dato che si inserisce il codice di avviamento postale della residenza per chi lavora anche il codice di avviamento postale di dove si reca al lavoro stiamo inserendo anche il codice di avviamento postale estero per i frontalieri cioè per chi si reca in Svizzera comunque all'estero al lavoro questo mi sembra molto importante Pier devo aggiungere una cosa sui movimenti che mi sono dimenticato prima allora stiamo abbiamo analizzato e abbiamo preso alcuni comuni che non cito come campione di movimenti sempre fatto 100 il 20 di febbraio e valutato il movimento il venerdì il giovedì il sabato e la domenica ci siamo accorti che in questi comuni che si trovano sulle direttrici verso i luoghi di villeggiatura la movimentazione è più alta questo dato lo daremo alle prefetture può essere un dato anomalo può essere un dato anche che qualcuno si sta recando nelle seconde case noi rivolgiamo ancora l'appello a non farlo a rimanere alla propria residenza Pasqua dobbiamo farla a casa perché spostarsi significa inevitabilmente e in alcuni casi spostare anche il contagio cerchiamo di rimanere in isolamento perché ripeto ancora continuerò a ripeterlo è l'unica arma che conosciamo e che la scienza e il mondo scientifico ci dice per diminuire il tasso di contagio ecco vediamo quindi ai dati sanitari come li definiamo noi ai numeri della giornata e appunto il vicepresidente Sala ci racconta come stanno andando le cose sì siamo arrivati a 186.325 tamponi quindi nelle ultime 24 ore ci sono stati 9.372 tamponi lo vedo subito è perché gli anticipo perché andiamo contemporaneamente sta iniziando la conferenza stampa di Borrelli a Roma allora Presidente dell'Associazione Italia Longeva e componente del Comitato Bernabèi con lui voglio dire 216 decessi in Lombardia prefigurano un dato più basso di quello di ieri a livello nazionale di 98.273 con un incremento di 1.396 pazienti rispetto a ieri prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato circa una settimana fa ad oggi sono infatti 3.497 i pazienti in terapia intensiva meno 108 rispetto a ieri e 28.242 sono i pazienti ricoverati con sintomi rispetto a ieri c'è una diminuzione di 157 unità mentre la maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi 66.534 il 68% dei pazienti oggi registriamo un numero di deceduti di 570 nuovi deceduti il totale dei guariti sale a 30.455 1985 in più rispetto a ieri per quanto riguarda il trend generale di crescita dei contagi il trend mostra un incremento di 3.951 unità 9 persone contagiate rispetto a ieri che porta il totale dei casi a 147.577 comprensivi quindi sia delle persone attualmente positive che di quelle decedute e di quelle guarite per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare il numero dei volontari 16.419 che si aggiungono al personale delle strutture operative e al personale sanitario io mi fermerei qui professore se vuole fare un breve intervento come sapete oggi c'è anche la conferenza stampa del presidente del consiglio ministri quindi oggi non faremo le domande e cercheremo di essere brevi nella nostra comunicazione sì molto breve perché credo sia anche molto importante quello che dirà il presidente del consiglio io vi lascio solo una riflessione che nasce dai dati che ha presentato oggi l'istituto superiore di sanità dove si è visto e si è confermato e ve lo dico semplicemente perché ho visto che il dato aumenta che la comorbilità quello che si la parola che si utilizza per dire quando hai più malattie insieme gioca un ruolo importante in questo coronavirus perché si è visto che il 63% dei deceduti aveva tre o più patologie questo è un dato che ci dice due cose uno che bisogna se uno è in questa situazione ovviamente essere molto attenti e seguire le terapie e i programmi che il vostro medico vi ha dato dall'altra parte ed è una come dire delle novità che emergono anche da questo tipo di patologia che le strutture sul territorio e il ministro Speranza da questo punto di vista è molto determinato le strutture sul territorio devono essere potenziate assistenza domiciliare RSA con tutte le problematiche che sono emerse in questi giorni cure palliative e hospice post acuzie riabilitazioni sono tutte strutture che devono essere potenziate perché chi è che ha più di una patologia è evidente che non beneficia solo del ricovero ospedaliero ma beneficia di una gestione cronica nel territorio di queste patologie e il rafforzamento di un'assistenza domiciliare in particolare che è particolarmente invece scusate l'utilizzo di troppe parole uguali che è molto bassa nel nostro paese deve essere invece potenziata su questo c'è un forte intendimento e come dire è uno dei fallout positivi che usciranno da una vicenda che certamente positiva non è buona serata a tutti grazie buona serata avete capito che è stato chiesto a Borrelli e al professor Bernabè di essere particolarmente sintetici perché a segnazione 1 c'è già l'identificazione del segnale da Palazzo e Chigi dove evidentemente tra pochi minuti il presidente del consiglio farà la sua conferenza stampa virtuale la chiamiamo così con la presenza via collegamento di alcuni giornalisti per annunciare evidentemente cos'è il contenuto qual è la razza del nuovo DIPCM cioè il nuovo decreto della presidenza del consiglio e dei ministri che allunga fino al 3 maggio il lockdown a livello nazionale con alcune modifiche tra pochi minuti quindi sentiremo cosa c'è nell'intervento del presidente del consiglio Conte aveva già in realtà fatto sapere che avrebbe parlato alla fine della mattinata poi i tempi si sono andati dilatando e allungando e evidentemente l'attesa era quella per avere semplicemente il decreto pronto perché poi un decreto va costruito attraverso anche gli esperti tecnici consiglieri evidentemente il decreto non era pronto tanto per parlarci chiaro e dopodiché i tempi sono slittati al primo pomeriggio poi a qualche ora inoltrata del pomeriggio fino ad adesso e l'abbiamo saputo praticamente dalla voce di Borrelli che non ci sarebbe stata la conferenza stampa semplicemente perché stava per arrivare e ve l'avevo già detto che da tutta la giornata lo si aspettava l'incontro di Conte con i giornalisti in realtà la presentazione all'opinione pubblica attraverso la televisione soprattutto e i social del nuovo decreto sapete che questa decisione dall'inizio dell'epidemia di parlare sempre direttamente in televisione di rivolgersi direttamente all'opinione pubblica è oggetto di una disputa di una controversia è chiaro che l'opposizione fa il suo lavoro e il il governo fa il proprio noi ci invitiamo a mandare in onda quando è ove possibile ciò che riteniamo importante conoscere da parte di tutti noi e sapere come è fatto il nuovo decreto evidentemente lo è per di più noi possiamo pensare che il presidente del consiglio non si sottrarrà a una valutazione sull'accordo che è arrivato praticamente 18 ore fa dall'Eurogruppo in teleconferenza che come si sa dopo una lunghissima discussione con varie interruzioni è arrivato ad alcune enunciazioni di principio che sono state variamente commentate sulla possibilità di utilizzare il MES per quello che riguarda le spese mediche e sanitarie senza alcuna condizione e invece l'assenza di una citazione esplicita dei cosiddetti euro bond ciò che ha fatto protestare con voce alta l'opposizione soprattutto Salvini e Meloni è anche una parte della maggioranza non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario all'utilizzo del MES il meccanismo di stabilità che è il Fondo Salva Stati che è stato purtroppo la dura medicina utilizzata per la Grecia che ha messo in qualche modo sotto vari vincoli Atene per un lungo periodo di tempo e su questo evidentemente ciò che è stato detto in passato non può essere contraddetto dalle parole di oggi anche se nella maggioranza e anche in parte dell'opposizione c'è qualcuno che dice ma se c'è un meccanismo come il MES senza condizioni cioè senza che ci sia nessun addebito ulteriore nessun rischio di controllo poi a posteriore sui nostri conti viene utilizzato per 37 miliardi perché questa è la cifra senza nessuna condizione per le esperienze mediche prendiamocelo e invece c'è chi dice no quella è in qualche modo l'evocazione l'uscita dalla bottiglia di quello spirito che poi non si riesce più a rimettere dentro e che ci porta alla troica perché questo è sempre come si sa il babau che viene identificato cioè la presenza di rappresentanti della Banca Centrale Europea del Fondo Volentario Internazionale della stessa Commissione Europea a controllare e a imporre sacrifici sui conti per rientrare nei parametri quelli che ben conosciamo di compatibilità di bilancio questa è la sostanza anche su questo Conte che proprio presentando l'ultimo decreto quello di lunedì scorso aveva detto proprio le parole riguardo all'Eurogruppo noi diremo sempre no al MES e sì agli Eurobond quello che ovviamente queste ultime ore da stanotte gli è stato contestato dall'opposizione da Salvini da Meloni e non soltanto vedremo se parlerà anche di questo il Presidente del Consiglio Preiasco questa concezione che possiamo definire americana della dichiarazione immediatamente subito di fronte all'opinione pubblica è in realtà un portato dell'elezione diretta lo fa il Presidente degli Stati Uniti perché ha come fonte di legittimazione diretta il popolo i cittadini dell'elettorato e quindi a loro riferisce qui è una innovazione mediatica ma si giustifica per lo stato di eccezionalità di emergenza forse dice qualcuno difendendo la scelta di Conte beh sì peraltro insomma che non siano tempi normali anche per come il dibattito politico si sta costruendo lo confermano tanti aspetti insomma c'è una monopolizzazione ovviamente anche degli spazi politici adesso abbiamo visto parzialmente elementi diciamo così di normalizzazione legati ad esempio alle vicende europee di questi giorni legate alle misure economiche però quando si parla dell'emergenza effettivamente in un certo senso anche le opposizioni fanno un mezzo passo indietro e c'è indubbiamente una grande centralità dell'esecutivo ovviamente questo si lega poi alla personalizzazione della politica che in Italia non è un fenomeno nuovo come si sa ma che si riafferma in questa circostanza in cui più che il governo è il presidente del consiglio certo noi approfittiamo di questi due di attesa perché la conferenza stampa di Borrelli e del professor Bernabèi è stata sostanzialmente telegrafica una mera enunciazione di numeri su cui noi possiamo forse tornare allora i casi totali sono a questo punto 147 mila stiamo vedendo 147 mila e 577 i positivi sono 1396 più di ieri il totale dei positivi sfiora ormai e domani verosimilmente si avvicinerà a quota 100 mila i guariti hanno superato invece con oggi quota 30 mila sono 1985 e il numero di decessi è di 570 che sono ovviamente meno di quelli di ieri ma che sono più della proporzione che si aveva nei giorni scorsi rispetto al dato parziale ma pesante ovviamente sempre della sola regione Lombardia che invece oggi ha avuto il numero di 216 vittime per carità 216 vittime 216 morte però il più basso forse dall'ultimo mese adesso io non voglio sbagliare ma credo che sia il più basso da 30 giorni a questa parte il che allinea anche l'ultimo degli indicatori perché si è sempre detto è chiaro che da un giorno all'altro si possono limitare i contagi ma sulle vittime bisogna aspettare purtroppo un decorso diverso Sì effettivamente il dato più basso per quanto riguarda i morti in Lombardia davvero da tanto tempo ce n'erano stati 209 il 19 marzo quindi tre settimane fa d'altra parte un'altra cosa che possiamo di nuovo rilevare è che in particolare la Lombardia lo si vede anche molto bene nei grafici poi cercherò di farne avere qualcuno su questo alla regia la Lombardia si vede che ha proprio una forma a campana diciamo così nel numero dei morti giornalieri e quindi questo ci fa capire che la Lombardia quantomeno sembra aver superato quel picco sui sui decessi ma anche sui sui casi totali d'altra parte insomma non bisogna dimenticare che ad esempio il numero comunque di nuovi casi non è trascurabile perché sono un po' meno di ieri ma sono comunque tanti sono un numero che diciamo anche questo è probabilmente superiore a quello che ci saremmo attesi un mese fa segno che la partita lo ricordavamo prima è ancora lunga segno anche che forse le ipotesi di fase 2 di riaperture parziali graduali sono un po' state superate dagli eventi e assisteremo forse a breve alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che potrebbe proprio parlare di questo parlare del prolungamento delle attuali misure però insomma 4.000 nuovi casi al giorno quasi 3.000 4.000 come è stato in tutti questi ultimi giorni non sono proprio trascurabili allora torniamo al complesso dei dati che abbiamo visto nel nostro cartello intanto dalla Lombardia e poi sul livello nazionale il numero delle terapie intensive dei ricoveri di terapia intensiva in Lombardia sono molto caduti molto sono molto abbassati sì e qua di nuovo la Lombardia traina un po' il dato nazionale perché la Lombardia ha avuto purtroppo più casi più vittime e anche più persone in ospedale tant'è che il dato nazionale spinto in positivo dalla Lombardia oggi segna 108 persone in meno in terapia intensiva e il dato però più positivo probabilmente su questo è che stavo vedendo c'è una discesa dal 4 aprile senza interruzioni del numero di persone in terapia intensiva e quindi il settimo giorno consecutivo oggi in cui si registra una diminuzione delle persone in terapia intensiva ora purtroppo una parte di questa diminuzione è dotata al fatto che alcune delle persone ricoverate purtroppo muoiono ma il fatto che non vengano ricoverati in terapia intensiva nuovi pazienti che per così dire sostituiscono coloro che muoiono è un buon segnale e invece nel mese di marzo direttore ricorderai che questo non c'era anzi c'era una costante saturazione dei letti di terapia intensiva anche per il numero di casi e qui sono 1900 e qualcosa rivediamo il cartello 1951 in più 1900 no 3000 3000 sì scusa e ci sono più casi rispetto a ieri e molto di più di quelli che si riferirono alle 24 ore precedenti mercoledì su giovedì questo è un discorso che ci può portare a dire delle cose che poi sono avventate in realtà voi esperti di numeri statisticamente parlando di progressioni di tendenze ci dite se mai non guardiamo il giorno per giorno ma guardiamo una prospettiva di 3, 4, 5 giorni che ci fa vedere una tendenza sì è così è importante osservare a più giorni anche la la vostra Pina Debbie nei riepiloghi giornalieri dei dati per il Tgla 7 giustamente si rifà proprio a questo principio perché di giorno in giorno possono esserci oscillazioni possono esserci lo abbiamo visto più volte regioni che tardano a comunicare i dati possono esserci errori di raccolta dei dati e dunque è saggio vedere almeno a 3 giorni tant'è che molti grafici anche molte elaborazioni che vengono fatte si basano sulle cosiddette medie mobili cioè su medie ad esempio di 3 giorni in 3 giorni che permettono di cogliere meglio la tendenza sui casi giornalieri è però piuttosto evidente anche dai grafici che mostrano l'andamento che noi abbiamo avuto un picco nella ultima fase di marzo ricordo il 21 marzo abbiamo avuto più di 6500 nuovi casi in un giorno abbiamo avuto diversi giorni tra fine marzo e gli inizi di aprile su questi valori 4-5000 c'è stata quindi indubbiamente una diminuzione un rallentamento di nuovi casi però di nuovo è un rallentamento di un aumento cioè comunque noi parliamo di nuovi casi che si aggiungono a quelli del giorno precedente il dato positivo lo accennavo prima è quello percentuale cioè se anziché vedere 3000-4000 in più al giorno guardiamo l'incremento percentuale notiamo che ad esempio oggi siamo al 2,8% in più di ieri ieri eravamo al 3 l'altro ieri al 2,8 a marzo avevamo dati che erano superiori al 10% o al 15% di aumento giornaliero certo allora cari telespettatori non stiamo allungando il brodo nell'attesa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio sono dati importanti da verificare peraltro proprio per l'imminenza delle dichiarazioni di Conte come avete visto la consueta conferenza stampa il punto di verifica attraverso i numeri e i commenti del bollettino quotidiano della protezione civile è durato pochi secondi praticamente proprio per dar spazio la comunicazione del Presidente del Consiglio da Palazzo Chigi cosa ci aspettiamo lo voglio ripetere per chi si fosse messo solo ora davanti al televisore intanto Conte racconterà spiegherà il nuovo decreto che viene varato oggi cioè il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riguarda il prolungamento fino al 3 maggio delle misure che ci hanno tenuti tutti a casa delle strette misure che hanno permesso al Comune cittadino solo di uscire per fare la spesa o di andare a lavorare se impegnato in uno dei settori socialmente indispensabili che ha permesso come si sa poco altro e che tiene intere categorie di età gli anziani ma anche i più giovani sigillati in casa queste misure saranno tutte praticamente prolungate fino al 3 maggio con qualche esenzione in più adesso aspettiamo da Conte di vedere se sono confermate le voci le indiscrezioni le anticipazioni secondo cui alcune ulteriori categorie merceologiche le librerie altri altri tipi di elementi di commercio le cartolerie i negozi di abbigliamento per bambino o per neonato coloro che cioè hanno la possibilità di vendere e commerciare ciò che riguarda soprattutto quella parte più giovanile della popolazione che è rigidamente chiusa in casa e ci resta perché uno degli aspetti collaterali del provvedimento è che non si riaprono le scuole anzi su questo è bene essere chiari ancora una volta secondo tutti gli esperti che abbiamo consultato e credo all'unanimità il comitato tecnico scientifico al quale si rivolge Palazzo Chigi dicono che a scuola per questo anno scolastico non ci si ritorna sostanzialmente perché il volano di rischio è troppo alto sia per i ragazzini in quanto tale sia per gli insegnanti per il personale ATA per i genitori che accompagnano i figli a scuola insomma una serie di motivazioni fanno sì che sia stata data indicazione ben precisa e consiglio ben preciso di non riaprire le scuole fino alla fine dell'anno scolastico e anzi il dibattito è aperto anche per la riapertura a settembre perché del coronavirus non ci liberiamo con un battito di ciglia neanche con il caldo di ferragosto ci dicono fino ad ora gli esperti poi succede adesso ovviamente siamo tutti pronti alle processioni ma la scienza questo ci dice ma non c'è soltanto questo come dicevo ci spiegherà la genesi di questo nuovo provvedimento ci parlerà delle prospettive è possibile che il presidente il consiglio ufficializzi quello che sappiamo ha già testato comunicandolo ai partner della maggioranza e non soltanto cioè la commissione la task force che viene sostanzialmente varata per preparare la fase 2 tutti gli aspetti della fase 2 come rimettere in moto il paese e a guidarla sarà un manager di grande esperienza valore internazionale e popolarità Vittorio Colao che ultimo domicilio professionale è conosciuto era capo mondiale di Vodafone uno dei grandi colossi come sapete della telefonia della telefonia mobile insomma questa è un'altra delle particolarità che potrebbero esserci un altro degli elementi degli ingredienti del discorso della conferenza stampa sia pur virtuale del Presidente del Consiglio e poi c'è il discorso Eurogruppo e prospettiva del vertice dei capi di Stato e di governo sulla questione degli aiuti perché è inutile che ce lo neghiamo tutti i decreti annunciati tutti i provvedimenti annunciati anche se è vero che per intoppi burocratici per altri aspetti sono pochi gli italiani che hanno visto qualcosa però stiamo parlando di cifre che sono in mani soltanto lunedì l'annuncio di Conte è stato di un provvedimento da 400 miliardi non siamo in grado di reggere senza l'appoggio dell'Europa a tutto questo un appoggio che già si dispiega con l'azione quotidiana in acquisto di titoli della Banca Centrale Europea ma ci vuole evidentemente un accordo maggiore ieri si sono poste secondo gli ottimisti le basi per questo secondo coloro che criticano anche duramente come succede da questa notte il risultato dell'Eurogruppo invece rischiamo la perdita di sovranità su questo sicuramente come ha già fatto lunedì scorso Conte parlerà sentite visto che è tarda noi proviamo ad andare in pubblicità e sfumiamo ovviamente se vediamo che sta per iniziare la conferenza stampa non abbiamo corso alcun rischio andando in pubblicità perché mi immagino il volto di Borrelli e del professor Bernabei che hanno ridotto a pochi minuti la conferenza stampa per dar luogo all'altra conferenza stampa molto attesa per il decreto del Presidente del Consiglio se non che l'annuncio che ci è stato fatto è che la conferenza stampa di Conte sarà tra un'ora alle sette e mezzo slitta dalle due di oggi quindi dalle quattordici quindi è evidente che o ci sono aggiustamenti o ci sono stati problemi o si sono accumulate una serie di altre incombenze non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai e forse non è così importante saperlo comunque abbiamo fatto 30 e con la trattazione di queste giornate di informazione anche dal versante dei bollettini delle conferenze stampa faremo 31 quindi subito prima delle 19.30 ci ritroverete qui vedremo insieme la conferenza stampa e poi evidentemente ci sarà subito dopo il telegiornale insomma i tempi i nostri tempi supplementari grazie intanto a Lorenzo Preliasco grazie a voi è possibile che ci si veda ancora vista la frequenza ormai la cadenza più che quotidiana delle tue apparizioni grazie grazie a tutti voi ci vediamo tra poco meno di un'ora diciamo subito prima delle 19.30 per la conferenza stampa di Conte per il nuovo decreto quello che ci fa stare a casa fino al 3 maggio